Sono 13 le richieste di condanna avanzate dai sostituti procuratori del Tribunale di Caltanissetta, Maria Pia Ticino e Stefano Luciani, nei confronti degli imputati coinvolti nel processo Redderazione, ma riguardante l'attività di Cosa Nostra Nissena, numerosi episodi di estorsione a danno di imprenditori e commercianti risalenti al periodo 1997-2007 commessi, secondo l'accusa, dalla cosca mafiosa di Caltanissetta. Gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato dal gruppo Francesco Lauricella rispondono a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione con l'aggravante di aver agito per conto di Cosa Nostra. La pena più pesante, 10 anni e 2 mesi, è stata chiesta per Angelo Palermo, ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Caltanissetta. Per Giuseppe Di Fazio, di Paternò e per Renisseni Giuseppe Onorato e Vincenzo Ferrara, è stata sollecitata invece la pena di 8 anni di reclusione, mentre 5 anni e 8 mesi sono stati chiesti per Maurizio Siciliano di Mazzarino. Nei confronti del canicattinese Angelo Di Bella, l'accusa invece chiesto 6 anni e 8 mesi di carcere. Per i minori sono stati chiesti per i collaboratori di giustizia in considerazione del contributo fornito alle indagini di Procura e Squadra Mobile grazie alle loro dichiarazioni. Per Francesco Ercole Iacono la richiesta è stata di 4 anni, 3 anni e 10 mesi invece sono stati sollecitati per Pietro Riggio, 3 anni e 6 mesi per Alberto Farrauto, 3 anni e 4 mesi per Aldo Riggi, 2 anni e 4 mesi per Giuseppe Giovanni Laurino, 2 anni e 2 mesi per Agesilao Mirisola e infine 6 mesi per Massimo Billizzi. Il sostituto procuratore Stefano Luciani, nel corso della sua requisitoria, ha voluto sottolineare il comportamento assolutamente non collaborativo degli imprenditori che furono vittime delle vessazioni mafiose. Adesso si tornerà in aula mercoledì mattina per le conclusioni delle parti civili e dei difensori. Grazie.